Fano Grosseto nel 2024 al via i lavori per il nuovo svincolo di Calcinelli ritenuto prioritario per la regione l'annuncio dell'assessore Baldelli del comune di Cogli al Metauro dove l'opera vedrà la luce dopo 20 anni di attesa. Ai sei mesi dall'alluvione inaugurata a Cantiano la farmacia comunale il presidio rinnovato e riaperto grazie ad Asset S.p.A. ampliata la gamma dei servizi offerti. Gli agricoltori potranno raccogliere legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi l'onorevole Carloni e il ministro Lollobrigida hanno presentato la camera al decreto legna che prevede anche il finanziamento di progetti nei territori colpiti da eventi atmosferici. Da 3 milioni a 500 mila euro, tagli drastici al piano cultura della regione, Marta Ruggeri lancia l'allarme. Gli operatori fanesi sono preoccupati, ha detto si rischia un circolo vizioso che impatterà anche sul turismo. 33 anni di danza tra passione, duro lavoro e grandi soddisfazioni. Su Fano TV la storia di Florincura, pluricampione nazionale e Romania e vincitore nel 2009 di Stelle per una notte. Alimentazione ed esercizio fisico al centro della quarta puntata di In Salute. Domani pomeriggio in diretta su Fano TV interverrà anche la biologa nutrizionista Alessandra Bracci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito a Cogli al Metauro questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha annunciato il nuovo svincolo della E78 all'altezza della zona industriale Laghi. Un'opera attesa da vent'anni che è stata ritenuta prioritaria e che garantirà non solo più sicurezza e nuove opportunità di sviluppo ma anche di liberare l'abitato di Calcinelli dai mezzi pesanti. Sentite. Per affrontare un tema di fondamentale importanza per il territorio di Cogli. È ufficiale. Lo svincolo di Calcinelli è stato inserito tra le opere prioritarie della regione Marche e compatibilmente con i tempi necessari al completamento delle fasi progettuali e alla procedura di valutazione di impatto ambientale il cantiere verrà aperto all'inizio del 2024 per 12 mesi di lavori. La conferma è arrivata questa mattina dall'assessore all'infrastrutture Francesco Baldelli che nel comune di Saltara ha annunciato l'opera ritenuta strategica per l'intera vallata. Avete parlato di visione, di gioco di squadra ma soprattutto di un cambio di passo per un'opera attesa da oltre vent'anni. Ho per attesa da oltre vent'anni non solo questo intervento puntuale che realizza una nuova uscita in entrambe le direzioni tra l'altro per Calcinelli la zona industriale di questo comparto economico industriale molto importante ma un cambio di passo, una visione infrastrutturale della provincia di Peso Urbino e della nostra regione. Ad iniziare dall'individuazione di quello che è lo scheletro strategico delle arterie su cui dovremo far gravitare il nostro traffico. in nome della sicurezza, della sostenibilità ambientale, economica e sociale e dello sviluppo economico turistico dei nostri territori. Quindi anche meno inquinamento e meno disagi per gli abitanti e per gli imprenditori. Le faccio solo un esempio, le due nuove bretelle che sono previste nel masterplan delle infrastrutture stradali quindi il piano strategico delle infrastrutture della nostra regione che confluiranno sulla E78 a partire da Carpegna o da Fabriano permetteranno le emissioni di ossigeno o meglio la mancata produzione di CO2 pari a un milione di alberi all'anno piantati. Questa è la visione che la nostra regione ha, non solo infrastrutture che vengono calate sul territorio ma infrastrutture in nome della sostenibilità anche ambientale e ovviamente della sostenibilità di vita dei nostri territori da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista turistico, da un punto di vista della qualità delle condizioni di vita del nostro abitato. L'infrastruttura inserita da ANAS nel piano nazionale del potenziamento delle intersezioni verrà collocata a metà tra i due svincoli esistenti di Lucrezia e Calcinelli in corrispondenza della zona centrale alle aree industriali e comprende la realizzazione di un cavalcavia accampata unica di circa 33 metri lineari per un'altezza minima di 5,20. La prima sima dell'investimento è di 2 milioni e mezzo di euro. Per chi ci accusa di immobilismo, ha commentato l'assessore di Colli al Metauro Francesco Tadei è la dimostrazione che quest'amministrazione parla poco e preferisce la politica del fare. Soddisfatto anche il sindaco Pietro Briganti che ha ringraziato la giunta Acquaroli e in particolare l'assessore Baldelli che ha seguito il progetto. Sicuramente darà un gran ristoro perché abbiamo dei conteggi di quelli che sono i passaggi giornalieri solo sul fiume Metauro. Recentemente la provincia ci ha comunicato che giornalmente passano più di 10 mila mezzi al giorno e nel centro di Calcinelli, nel semaforo di Calcinelli dove tra l'altro non si presta tantissimo per la sua conformazione a facili manovre da parte dei mezzi pesanti, si stima che passino dalle 15 alle 16 mila mezzi giornalieri. Quindi questa opera darà sollievo dal punto di vista della viabilità ma non solo, darà possibilità di sviluppare un'area da sempre rimasta al palo perché gravava sui proprietari l'obbligo di contribuire attraverso la realizzazione di questa importante opera che è lo svincolo della superstrada sulla Grosseto Fano, darà la possibilità di sviluppare questa importante area produttiva con possibilità quindi di insediamento di attività, possibilità di creare posti di lavoro e quindi portare ricchezza. Questa opera assume ancora maggiore valenza e maggiore importanza se si pensa ai notevoli investimenti che la Regione sta facendo per rilanciare questa vallata che è rimasta per troppo tempo indietro negli sviluppi infrastrutturali della Regione Marche. Ciò consentirà grazie alla guinza, grazie allo sviluppo, agli investimenti sulla contessa o al miglioramento dei manti stradali di far sì che le nostre aziende possano avere una maggior competitività a livello logistico e far sì che ci possa essere uno sviluppo sul territorio di quello che è il turismo. L'assessore Baldelli domani sera, venerdì 17 marzo, sarà a Palazzo Martinozzi nel centro storico di Fano per illustrare i progetti relativi alla viabilità, all'edilizia scolastica e ospedaliera che la Regione Marche sta avviando anche a Fano. L'incontro dal titolo Le infrastrutture, precondizioni di sviluppo, vedrà l'introduzione di Loretta Manocchi, coordinatrice di Fratelli d'Italia Fano, e Andrea Montalbini, dirigente regionale di Fratelli d'Italia. Ondata di furti a Pesaro, Fano e nell'entroterra sia negli appartamenti che nelle attività commerciali. La situazione è preoccupante, ha commentato la Presidente di ConfCommercio Fano, Barbara Marcolini. Con l'arrivo della bella stagione, ha detto, e con le persone più spesso fuori casa, potrebbe anche peggiorare. Le forze dell'ordine ormai da tempo lamentano una forte carenza di organico. Servono risposte concrete, è necessario più personale per presidiare il territorio. Marcolini, infine, ha ricordato la possibilità del bonus sicurezza. Si tratta della detrazione fiscale del 50% sull'IRPEF per i costi sostenuti da chi esegue lavori volti a garantire la sicurezza di un'abitazione. Le spese a cui applicare lo sgravio fiscale devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2023. I costi riguardano l'installazione di allarmi, recinzioni, antifurti, videocitofoni e altre apparecchiature di sicurezza. Cambiamo argomento. Gli agricoltori potranno raccogliere il legname depositato in seguito a eventi atmosferici o meteorologici nell'alvio dei fiumi. L'ha annunciato questa mattina alla Camera l'On. Mirko Carloni che, insieme al Ministro Lollo Brigida, ha presentato il decreto legna. Allora sentiamo un estratto della conferenza stampa. Con un emendamento fatto da me e dai miei colleghi della Commissione di Agricoltura in finanziaria abbiamo introdotto una norma molto semplice apparentemente ma che era necessaria. Cioè che l'agricoltore possa raccogliere sul sedime di fiumi, dei torrenti, dei laghi e anche delle spiagge, a seguito di eventi meteorologici, una quantità di legna sufficiente alla propria attività ma sicuramente molto utile all'ambiente perché io ho vissuto nel mio territorio un'alluvione a settembre e vi posso garantire che la cosa più spiacevole oltre alla tragedia vissuta e ai morti di questa tragedia è stato sentire da parte degli allevatori e degli agricoltori la narrazione continua di tante multe prese nell'estate precedente all'alluvione per aver pulito e per aver raccolto il legname depositato sui fiumi. Lo stesso legname che poi 15 giorni dopo la prima forzata pioggia ha ostruito i passaggi dell'acqua naturale e quindi ha favorito l'alluvione stesso. Quindi questo emendamento mirava a creare la possibilità in modo banale e semplice agli agricoltori, imprenditori agricoli, anche pensionati agricoltori di poter pulire liberamente senza chiedere il permesso al genio civile, ad altre autorità competenti la possibilità di raccogliere il fiume senza essere multati. E poi c'era un finanziamento nella stessa finanziaria in quell'emendamento a mia firma e altri colleghi di 500 mila euro per poter creare anche dei progetti relativi alla conoscenza, alla formazione e quindi oggi grazie all'impegno non comune del ministro Loro Brigida siamo qui in tempi record a presentare un decreto che vede l'azione concreta di questo mezzo milione messo a disposizione di chi? I soggetti beneficiari sono le imprese agricole, sono gli agricoltori in ogni forma associata e singola, anche quelli pensionati, sono le associazioni di categoria. Entro 15 giorni il ministero poi farà le procedure di pubblicazione di questo bando relativo al decreto. I beneficiari appunto sono gli imprenditori dell'organizzazione agricole e possono fare progetti che vedano la formazione, la comunicazione relativo e finalizzato appunto alla raccolta di legname come nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde dei laghi, dei fiumi e sulla battigia del mare. Ovviamente devono essere conseguenti da attività straordinaria, oltre all'emergenza dichiarata con decreto, anche a quelle semplicemente dichiarate dall'autorità provinciale o regionale, gli allerte meteo, quindi diciamo che coinvolge grande parte del paese perché l'allerta meteorologica, marina o fluviale o della pioggia ovviamente coinvolge gran parte del nostro terreno. Mentre invece, lo ribadisco, la norma generale che dice che gli agricoltori possono raccogliere vale per tutta l'Italia. Il contributo invece si limita alle parti dove c'è stato anche un evento meteorologico. Quindi su questo c'è stato non solo un impegno preso durante le tragedie, l'alluvione, gli impegni di campagna elettorale, ma c'è stata una risposta vera, fatta prima in finanziaria e poi dal ministro Loro Brigida con questo decreto che ribadisco ancora ringrazio per la celerità e per la solerzia con cui ho voluto intervenire. E a proposito di alluvione, questa mattina a Cantiano è stata inaugurata la farmacia comunale gestita da Aset S.p.A. L'azienda che aveva garantito il servizio anche nei mesi più difficili post alluvione si è fatta carico, in sinergia con il comune e l'Azur, del ripristino dei locali gravemente danneggiati. Il servizio è stato curato da Stefania Schiaroli. Cantiano, a sei mesi dall'alluvione, ha riaperto la farmacia comunale nei suoi locali storici, gestita da Aset S.p.A. La struttura infatti era andata completamente distrutta dopo le calamità di settembre. Il presidio sanitario finalmente inaugura dopo il rinnovo, eseguito a seguito dei lavori. Grazie ad Aset, che sempre presente nel territorio, si è interamente fatto carico del ripristino dei locali alluvionati e ha garantito, grazie anche alla disponibilità del personale, la continuità del servizio anche nel periodo di maggiore difficoltà del Paese, tramite soluzioni alternative. Un altro piccolo tassello di questa complicata, quanto auspicata, puzzle di ricostruzione del Paese. Oggi riapre la farmacia comunale, un presidio strategico per una piccola comunità, una farmacia che è stata appunto di riferimento durante il Covid e che lo è stata anche nella fase più drammatica dell'emergenza alluvionale. Quindi al concessionario, a Aset e indirettamente ai comuni soci faccio un ringraziamento per averci accompagnato e per averci ridato una farmacia più efficiente e più bella di prima che apre anche a nuovi servizi alla comunità. Noi qui abbiamo ristrutturato la farmacia esattamente come era prima, da tener conto comunque i servizi non sono mai mancati da 15 giorni dopo l'evento tragico fino ad oggi. Oggi abbiamo una situazione molto migliore di quella che ci siamo lasciati alle spalle. Riteniamo che sia un atto dovuto nei confronti di questo territorio. Quali sono i giorni e gli orari di apertura? Sì, noi siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle otto e mezza al mezzogiorno e mezzo e poi riapriamo alle 15 e 30 per richiudere alle 19 e 30. Invece sabato siamo aperti solo il mattino, otto e mezza, dodici e mezza. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone la rimozione entro il 25 marzo prossimo di imbarcazioni, natanti, relitti e materiali presenti nel tratto di foglia compreso tra il ponte di strada panoramica adriatica, quindi il ponte Persoria, e il ponte brigata ebraica, cioè via Mameli, il provvedimento che contrasta le occupazioni improprie all'obiettivo di consentire il corretto deflusso delle acque fluviali sotto le luci dei ponti. Soprattutto in caso di onda di piena, le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra i 25 euro e i 500 euro, fatte salve eventuali sanzioni penali. La capogruppo consigliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, ha lanciato un grido d'allarme dopo che la Commissione Bilancio ha approvato il primo stralcio del Piano Cultura con un profondo taglio alle risorse per finanziare le manifestazioni. Sentiamo la sua dichiarazione. Marta ha detto una situazione preoccupante anche per le associazioni del nostro territorio. Assolutamente, perché il primo stralcio del Piano Cultura che è stato approvato in Commissione Bilancio lunedì scorso è praticamente privo di risorse. Invece dei 3 milioni minimo che sono stati istanziati negli anni scorsi abbiamo un primo stralcio che presenta 500 mila euro. Sono cifre irrisorie che hanno preoccupato tutti gli operatori culturali, naturalmente anche quelli della nostra città. Pensate solo che per la misura delle rassegne dei festival abbiamo una settantina di mila euro e per la musica dal vivo più o meno 30 mila euro. Queste sono cifre, non ripeto, di un consiglio comunale ma di un consiglio regionale. Quindi capiamo che sono veramente troppo poche. La maggioranza ha assicurato che farà presto una variazione di bilancio oppure che verranno aggiunte risorse durante l'assestamento. Resta il fatto però che le più importanti manifestazioni culturali anche della nostra città verranno fatte senza la certezza dei finanziamenti quantificati e quindi i nostri operatori stanno lavorando e hanno già programmato eventi che non si sa se saranno finanziati completamente. Quali sono gli eventi che potranno riscontrare questi problemi? Io per esempio penso alla manifestazione di Passaggi, un importantissimo festival della saggistica che ha lanciato la nostra città anche a livello nazionale e oserei dire anche internazionale con un finanziamento, con dei bandi, con dei finanziamenti così bassi rischia di non avere la copertura delle proprie spese quindi sarebbe un danno anche turistico per la città intera. Avevo presentato anche delle osservazioni riguardanti il cinquantenario dell'incontro internazionale nel nostro collo polifonico malatestiano e anche riguardante il centenario della musica arabita e purtroppo non sono state prese in considerazione ad oggi. Un gruppo di cinghiali è stato avvistato questa mattina lungo la rotatoria che porta all'ospedale di Urbino, esattamente in Viale di Vittorio. Nella foto che vedete, che è stata anche pubblicata sui social i cinghiali sono nell'area verde della rotonda intenti a mangiare l'erba senza preoccuparsi del traffico intorno. E adesso la storia di Florin Cura, 43 anni, coreografo e ballerino internazionale nato in Romania ma residente a Rio Salso di Montecchio pluricampione nazionale nel suo paese nelle discipline di danza sportiva standard e latinoamericane e vincitore nel 2009 di Stelle per una notte a Ballando con le Stelle. Tanti anni di studi, tanti anni di danza e di grande passione soprattutto, iniziata qual'età? Dieci anni. Quando avevo dieci anni sono stato costretto dai miei genitori di andare a danza. l'ultima cosa che io pensavo nella mia vita. È partito tutto da un matrimonio dove i miei genitori hanno visto i sposi che non sapevano ballare. Sono arrivati a casa e mi hanno detto tu da domani vai a ballare. Una tragedia all'inizio, ma grande tragedia. E poi dopo si vede che non hanno sbagliato. Un genitore sbaglia poco, però si vede che loro non hanno sbagliato. Ci hanno visto lungo? Molto lungo. E poi da lì è iniziato un lungo percorso. Da lì è iniziato un lungo percorso in quello che riguarda la danza sportiva, che ha due sezioni standard e latinoamericane. Standard significa waltzer lento, tango, waltzer vienese. E latinoamericane, samba, cha-cha-cha, rumba, un po' più ritmato diciamo. E da lì ho iniziato a studiare delle scuole in Romania, perché io sono nato in Romania. La mia allenatrice ha visto che posso fare una strada abbastanza lunga in quello che riguarda la danza. Hanno iniziato anche i risultati. Ho avuto la fortuna, a 14 anni, di andare in Accademia di Danza in Russia e in Repubblica Moldavia. Una esperienza bellissima, molto difficile, però sono anche consapevole che se io non andavo lì non riuscivo ad arrivare ai certi risultati buoni. Ecco, parliamo appunto di questi risultati, l'abbiamo visto anche a Ballando, ad esempio. Sì, sono stato per diverse volte campione nazionale nel mio paese, in Romania. Ho avuto l'onore di partecipare ai quattro campionati mondiali. La soddisfazione è grande, perché vedendo la bandiera del tuo paese è veramente una gran soddisfazione. I risultati abbastanza buoni. Poi dopo, in tempo, ovviamente diverse gare nazionale e internazionale, diverse finale di Grand Slam. Le soddisfazioni sono state tante, però passando il tempo, delle volte dobbiamo fare certe scelte. E mi sono trasferito in Italia da 18 anni già, con la mia famiglia e ci siamo stabiliti qui in Italia. Dopo ho iniziato a gareggiare anche per l'Italia per un periodo. Una bellissima esperienza, veramente una bellissima esperienza, perché Italia adatto e ancora da tutto il mondo dei ballerini molto bravi. Molto bravi. Posso dire che nell'elite mondiale Italia vuol dire molto. Che cosa ti ha regalato e che cosa continua a regalarti la danza? La danza, come qualsiasi sport, ti regala, a parte diverse emozioni, però tanta adrenalina. Ho avuto l'occasione di partecipare in 2009 anche alla trasmissione Ballando con le stelle, vingendo stelle per una notte. Per il momento sto collaborando con diverse società, sia dall'Italia sia dall'estero. Diverse società della ginnastica ritmica. Con il mio aiuto di ballerino, in quello che riguarda l'allineamento corporale, l'espressività e diversi movimenti di danza che sono molto utili nella ginnastica ritmica, finora sono riuscito a fare una bellissima figura. Speriamo che dura ancora. Laura e Florin, le nostre stelle per una notte! Domani pomeriggio torna su Fano TV in salute, allora sentiamo quale argomento verrà trattato insieme agli esperti. Siamo ufficialmente pronti per la quarta puntata di In Salute, venerdì 17 marzo in diretta su Fano TV alle ore 18 e questa volta parleremo di alimentazione ed esercizio fisico. Quindi sintonizzatevi e vi aspettiamo venerdì. A presto! A presto! E durante la puntata interverrà, mediante un contributo video, la biologa nutrizionista Alessandra Bracci. Vi ricordo che lunedì prossimo, a Primo Cittadino, il sindaco di Fano Massimo Seri sarà nei nostri studi per rispondere alle vostre domande. Potrete intervenire in diretta chiamando al numero del nostro ufficio oppure potrete mandare un messaggio su WhatsApp. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi trasmetteremo due speciali. Il primo dedicato all'alta formazione sulla finanza dei giovani soci delle BCC, mentre il secondo sulle attività del Jump. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti voi. Grazie. Grazie.